ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video oggi sono in macchina mia madre mi ha apprezzato appena da scuola vero mamma? e adesso andiamo alla cari pur... mi stiamo andando alla cari pur a mangiare... mamma come si chiama? andiamo a vedere qualche vestiti mangiamo e adesso quando stiamo per mangiare vi invito ciao raga ragazzi sto nell'overboard allora sono entrati vedete l'overboard che da due o tre mesi che ce l'ho comprato prima di natale ragazzi intanto sono entrati dentro la terra nuova da vedere qualcosa guarda sto vlog è uno schifozzo guarda che belle scarpe video? oh 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 oggi tutti i giorni farò i video ragazzi non so a che ora però domani di sera farò i video perché vado prima a fare i compiti ok ragazzi ok ragazzi mia madre sta ordinando per mangiare mangiamo i primi qua è la cari pur tutti lo so tutti lo so quindi ragazzi vado appena da mangiare e ci vediamo quando mangio ciao mia mamma sta ordinando guardate è buono aspetta mi sapete non prendere cosa sta a fare ma quello? eh? ok ragazzi ecco mia sorella niente ora è in ballo guardate qua ancora l'aria vado a fare il giro 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 qua c'è pure H&M 05 vado a fare il giro Difficile andare sull'Europa, la prima volta subito ci sono andati, perché l'ho imparato, no, c'era un mio amico a casa, quindi me l'ha fatto provare, non ci doveva andare, però ci sono andato qui, quindi ho imparato, vabbè ragazzi adesso vado via, ciao. Ragazzi abbiamo appena finito, guarda, abbiamo appena finito, l'olio non ce l'ha dietro, non ce l'ha fatta. Mamma, finito? Sì, finito. Che faccia di merda mia, scusate. Tre l'è andato a Terra Nova, ora? Terra Nova. Ragazzi, fra un po', dopo andiamo, dentro Terra Nova, no dopo Terra Nova dove andiamo? Poi. Di quanto in torno? Dillo ragazzi apprendere qualcosa, per la scuola. Può cercare forse per la scuola. Oh, c'è ragazzi per la scuola? mi piace un sacco le verdure anzi compriamo tante tante verdure ricordatevi andate qua a mangiarci ho scritto su una cosa se mi mettete 5 like in ogni video vi faccio un video di ripire a 5 e 4 mesi quante calorie è questa? pure rimane tanto era pieno come puoi mangiare tutto? mi piace adesso entriamo dentro a terra nuova ciao ragazzi siamo dentro a terra nuova ragazzi aspetta ragazzi c'è mia sorella no? guarda 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 ecco ecco aiuto ragazzi guardate questo è cattivo iscrivetevi al suo canale che make up 11 kawaii lei ah madonna ancora dobbiamo restare qua dopo devo comprare qualcosa per la scuola no avevo pure scarico dopo come fa e carico e carico tira la testa madonna mi piace io morirà ma ragazzi venite qua chi è mia madre guarda quanto è bello ancora durerà tanto questo video ragazzi per questo video voglio 10 like ragazzi guardate bell'overboard vero ragazzi scrivetemi nei commenti se è un bel oppure fa schifo scrivetemi la mia moda fa schifo non ce la faccio a tenere sempre così ok spengo perché sennò 10 minuti di video ciao io sono francesco ragazzi sono andata a portare l'overboard immagino perché era scarico quindi adesso vado di mondo a mia madre sopra ragazzi siamo usciti stiamo andando a tagliare i capelli vero no ragazzi andiamo a tagliare i capelli ragazzi adesso mi vado a tagliare i capelli al cinese per quanto è per sabato no per domani guardate ragazzi allora andiamo al cinese ma ma aspetta sto parlando con youtube mamma mia questo qua guardate di cinese per lei tagliare i capelli ragazzi ragazzi purtroppo iscrivetevi al canale sto seduto qua iscrivetevi al canale vi dite un like e al prossimo video arrivederci adio